lo sabato a far motocross e me le registro me le guardo domenica me le son viste in diretta sinceramente quando correvo in moto gp l'ultimo mezzo anno soprattutto dal barcellona in poi da giugno in poi decisi di che per me era arrivato il momento ho detto probabilmente nemmeno guarderò più le gare dalla moto gp invece dal 2022 e sarà a casa o in america riguardo anche le fp1 comincia a guardare tutte chiaramente la moto gp mi è rimasta nel cuore l'ho vista sia sabato che domenica e pecco ha fatto ha fatto veramente un lavoro eccezionale dopo aver vinto due mondiali probabilmente adesso il pilota più in forma che esiste guida da dio non sembra fare errori è stato è stato bello vedere comunque tante battaglie ci sono tanti piloti nuovi come ecco magari come può essere a costa o marquez sulla ducati comunque ci sono tanti piloti anche lì che possono probabilmente vincere delle gare grazie grazie